Buongiorno e benvenuti, iniziamo una nuova giornata insieme, oggi è venerdì 5 marzo 2021 e questa è Fano TV, la televisione locale che trasmette da Fano in tutta la regione Marche sul canale 17. Allora, ben trovati, dicevo, e cominciamo subito dal santo di oggi, il santo del giorno è Sant'Adriano di Cesarea, il sole è sorto alle 6.40, tramonterà alle 18.04, adesso il tempo. Come sempre diamo un occhiato al bollettino della protezione civile delle Marche che per oggi prevede cielo sereno, anzi poco, parzialmente nuvoloso in mattinata, e con qualche addensamento in più a ridosso dei rilievi, poi nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità e ci saranno anche piogge locali che saranno possibili a partire dalla serata. Piogge che continueranno anche nella giornata di domani, saranno sparso di debole intensità al mattino, limite delle nevicate in abbassamento fino a 1000 metri sul comparto appenninico settentrionale, quindi pesarese, fino a circa 1300 metri invece sui Sibillini. Domenica 7 il tempo migliora anche se rimarrà la nuvolosità, poi condizioni di stabilità in particolare nelle zone interne nei primi giorni della prossima settimana. Si parla naturalmente anche questa mattina sui giornali che andremo adesso a commentare di vaccini, di ritardi, della situazione che viviamo in queste settimane, ma si parla soprattutto del fatto che anche la zona di Macerata diventerà rossa, zona rossa da domani. Dunque le Marche che si tingono sempre più di rosso, al momento restano fuori soltanto tre province, Pesaro, Urbino con Fermo ed Ascoli Piceno, ma Ancona che è già in zona rossa avrà presto compagnia appunto i maceratesi che da domani saranno appunto nella fascia di restrizione più grande. Dunque cominciamo dal Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico, l'edizione di Pesaro, titola Vaccini, servono più sedi. Il Centro Monaldi infatti non basta per l'Interland. I sindaci dell'Unione Pian del Bruscolo vanno dunque in pressing sull'assessore Saltamartini. Dopo ancora in Macerata Acquaroli da domani chiude le scuole, dalle medie all'università in tutta la regione. Restano aperte dunque soltanto gli asili e le scuole alimentari. La fascia 14-18 invece è la più colpita. Allarme ragazzi è arrivata la variante, questa è la fotonotizia. Poi sotto ex consorzio agrario edifici incompatibili con l'area portuale. E sempre da Pesaro terreni svenduti fino a 80 mila euro ma nessuna offerta. E lavori sulle silicate anche il sacerdote perde la pazienza. Qui di spalle invece le marche dimenticate e continua il Corriere Adriatico con la sua inchiesta sulle marche, l'ublio delle marche, Castelli Carloni. Così non va per contare, servono altre strategie. E di taglio basso la cronaca con un pensionato circuito ricattato anche con foto pornografiche. Due donne accusate di furto e distorsione. A processo finisce anche un professionista. E poi a Fittia fanno aiutate oltre 300 famiglie con i fondi. Il Carlino di Pesaro, vaccini al rallentatore. Questa è la fotonotizia. Marche tra le ultime nelle classifiche delle regioni. Il virus dilaga, chiuse le scuole medie, record di contagi nelle marche, 919. Ma noi reggiamo, noi come provincia di Pesurbino, oggi l'ordinanza per la didattica a distanza. Inchiesta sulle torri al porto. La capitaneria esce allo scoperto. Ecco perché siamo intervenuti. E poi servono altre quattro sedi per somministrare le dosi di vaccino. La proposta dei sindaci. E ancora la prima giornata di screening. Quello del comune di Pesaro partecipa il 70% degli studenti. Sette sono stati i positivi rintracciati. Trovati. Poi pochi tamponi in provincia. Trend anomalo negli ultimi giorni. E la truffa controllo gli effetti del siero. E gli sfila il portafoglio. Vedremo poi nel corso di questa rassegna stampa. Qual è questa truffa che è stata messa a segno come sempre ai danni purtroppo degli anziani. Lei fa sesso con un 74enne. L'amica invece lo deruba. In due finiscono a processo con l'accusa di furto e danni di un uomo sedotto e beffato. Parla l'ex giocatore della VL Pieri. E dice, repeggia, il coach, ha riacceso la miccia. Ha restituito la passione ad una città che non aspettava altro. E adesso andiamo a vedere invece il Carlino di Ancona. Anche qui la fotonotizia più o meno la stessa. A passo di Lumaca, riferendosi ai vaccini e ai vaccinati, che sono 33.000 over 80 su 133.000, mancano le dosi. Intanto da domani chiuse tutte le scuole. Di taglio basso a Senigallia, addio a Leda, la signora del Mamma Mia, a lei si deve la nota discoteca. Allora, com'è la situazione, cari telespettatori, oggi della pandemia? Com'è la situazione? Andiamo a vedere e cerchiamo di capire come destreggiarsi in questa nuova giornata che ci attende. Allora, intanto le marche, abbiamo detto, sono ad alto rischio. Così titola il giornale questa mattina il Corriere Adriatico. Macerata, rossa da domani, chiuse anche le università. Da domani, dunque, 14 marzo, zona rossa in provincia di Macerata, già istituita invece nella provincia di Ancona, chiuse tutte le scuole in università, mentre nelle altre province, quindi abbiamo detto Peserrubino, Fermo e Ascoli Piceno, che rimangono in zona arancione, c'è la didattica distanza al 100% per scuole medie, scuole superiori ed università. Scuole dell'infanzia invece e le primarie tutti in presenza, quindi i bambini possono andare a scuola. Ora, la situazione invece negli ospedali, com'è questa situazione? Sempre approfittando del grafico del Corriere Adriatico, i numeri li potete vedere da soli. Insomma, abbiamo 580 persone ricoverate in terapia non intensiva, 87 quindi sono in aumento, quelli invece intubati. Il totale dei ricoveri è a 667. Abbiamo un esercito, abbiamo una marea di gente, purtroppo, che non ce l'ha fatta, 2.307 persone deceduti dall'inizio di questa pandemia, mentre il totale dei casi positivi si attesta a 70.396. Poi, tutti gli altri numeri, vi vedete, insomma abbiamo 9.503 persone che sono in isolamento domiciliare, mentre gli attuali positivi oggi al coronavirus nelle Marche sono 10.170. Il resto del Carlino titola invece sull'edizione di Pesaro, Marche, contagi record, qui la curva risale, didattica a distanza anche alle medie, ben 919 positivi in regione, ma con tamponi in crescita. Esposto, dice, in provincia, purtroppo la tendenza sta peggiorando nella provincia di Pesaro Urbino. Acquaroli oggi firma l'ordinanza che limita la presenza nelle scuole fino al 14 di marzo. Da Roma dovrebbero confermare oggi, essendo venerdì, la zona arancione. Intanto il Corriere Adriatico pubblica anche i nomi di quei comuni, sono pochi, sono sempre di meno, sono 17 persone che non hanno il virus, 17 comuni covid free, cosiddetti covid free. E cade anche la roccaforte di Bolognola. Ricorderete qualche settimana fa abbiamo intervistato la sindaco donna, insomma la sindaco di Bolognola, che appunto ci raccontava un po' come era stato possibile anche nella seconda ondata preservare un comune, seppur piccolo, seppur incastonato tra le montagne come Bolognola. E adesso purtroppo la roccaforte è caduta, quindi anche Bolognola ha qualche evidentemente positivo. Mentre in provincia di Ancona solo Poggio San Marcello è covid free. Nella Scolano invece Monte di Nove, Monte Gallo, Monte Monaco, nel Fermano invece Belmonte Piceno, Monte Vidon Combatte, Monte Leone di Fermo, Monte Rubbiano e Smerillo. In provincia di Macerata non hanno positivi attuali Castel Sant'Angelo sul Nera, Gagliole, Monte Cavallo, Poggio San Vicino e Val Fornace. Mentre è caduta, come abbiamo detto, la roccaforte di Bolognola, l'unico comune che non aveva mai avuto positivi dall'inizio dell'epidemia. Nel Pesarese invece sono Covid free, Fratterosa, Frontino e Monte Ciccardo. Ora su Fratterosa ho qualche perplessità, lo dicevo anche a Riccardo, il regista, prima di andare in onda, ma forse mi confondo con Fruntone, ma non lo so. Su Fratterosa ho qualche perplessità, ma così scrivono e quindi prendiamo per buono. Intanto l'altro elemento di questa seconda ondata è che l'epidemia non ha più età. Se prima colpiva in particolare persone di una certa fascia, soprattutto medio-adulta, medio-alta, adesso possiamo dire che con la variante anche i giovani sono interessati. Quelli che fino adesso facevano un po' orecchio da mercante, tanto il virus colpisce i vecchi, ecco adesso non è più così, cari giovani. Sappiate che non è più così. Adesso in gioco, in ballo ci siete anche voi, non solo come trasportatori, ma anche come persone che purtroppo possono essere colpite da questo Covid. E allora il titolo e l'articolo che vi segnalo questa mattina dal Corriere Adriatico porta la firma di Lorenzo Sconochini. Il titolo è Virus tre giovani, l'effetto variante, crescita esponenziale di contagio nelle fasce di addirittura in età scolare. La classe però, attenzione, dai 14 ai 18 anni è quella con l'incidenza più alta di casi. E questo non era difficile da comprendere perché, come abbiamo detto più volte, i bambini sono più ligi al dovere, sono più attenti, le maestre riescono a controllarli meglio. In realtà quelli dai 14 ai 18 anni fanno un po' come mi pare, basta vedere insomma anche quello che combinano nelle scuole, nelle classi, anche quando non c'è la pandemia, insomma, sono quelli un po' più estroversi. Allora, nell'ultima settimana di febbraio, più 70% tra gli studenti delle superiori. Allora, sulla questione invece dei vaccini, il Corriere Adriatico, in primo piano nell'edizione delle Marche, titola doppio vaccino a 2 su 100, 2 su 100. Regione ancora in ritardo nel siero per gli oltre 80 anni e soprattutto per i sieri destinati alle case di riposo. L'assessore Saltamartini dice Pfizer e Moderna scarseggiano e c'è un problema anche di gestione. Ora, Saltamartini ieri, per chi lo segue sui social, su Facebook, ha scritto un lungo, lunghissimo post, però molto interessante, nel quale appunto diceva un po' come stavano le cose, senza andare troppo per il sottile. E dice Moderna e Pfizer sono i due vaccini che in questo momento qui nella nostra regione stanno scarseggiano, scarseggiano, dice Saltamartini. E sarà per questo che le Marche in realtà sono quartultime in Italia in fatto di somministrazione di vaccini agli oltre 80 anni e sono in ritardo rispetto all'Italia anche nella somministrazione alle persone che sono nelle case di riposo. Soprattutto perché ci sono medici ancora cosiddetti al palo, cioè che ancora non possono intervenire per esempio per andare a fare i vaccini a casa delle persone che hanno più di 80 anni. Sono costrette le persone fino ad oggi ad essere accompagnate da figli, parenti, nipoti nei vari punti di somministrazione. A Pesaro il contestatissimo centro sociale, appunto la celletta. E poi c'è anche, e su questo io andrei un attimo a soffermarmi nella parte in fondo, come scrive Martina Marinangeli questa mattina, ebbene, sulle responsabilità. Sentite che cosa scrive Saltamartini, l'assessore regionale alla Sanità delle Marche, a proposito delle responsabilità. Può accadere che il programma non sia perfettamente rispettato e che dunque ci possano essere per esempio appunto dei ritardi e quindi, come dire, il problema è che il cronoprogramma non venga rispettato, quindi a catena, se c'è un ritardo da una parte, si riflette in altri posti. Ma si tratta di un problema di gestione che appartiene ai dirigenti. Occhio! Se poi ci sono dei dirigenti che fanno altro o sono inefficienti, individuarli sarà un compito successivo. In via generale sento di esprimere apprezzamento e gratitudine per migliaia di donne e uomini della nostra sanità, che è già cambiata dopo cinque mesi. Ma le paroline, anzi la frase che potrebbe essere così, letta tra un caffè e l'altro, ma che in realtà dietro nasconde tutto un programma che evidentemente poi Saltamartini metterà in campo, è questo, individuare, dov'è? dire, eccolo qua, se poi ci sono dei dirigenti che fanno altro o sono inefficienti, eccolo qua, individuarli, ecco la parolina, sarà un compito successivo. E dunque, uomo avvisato, come si dice, mezzo salvato, perché sono tantissimi i sanitari bravissimi, soprattutto quelli in prima linea, poi ci sono i dirigenti che devono prendere decisioni, che però a volte vanno un po' a rilento. Ecco, in realtà qui non possiamo permetterci nessun rallentamento, quindi i sanitari in corsia fanno il loro lavoro, i dirigenti negli uffici devono fare il loro lavoro e non aver paura della firmetta da porre al foglietto. Perché? Perché poi se andiamo negli Stati Uniti, e qui voglio farvi vedere questo articolo che ho selezionato a pagina 8 del resto del Carlino, guardate come la sinfonia è completamente diversa. Allora, il titolo, io ho vaccinato negli Stati Uniti a tempo di record, io chi? Cesare De Carlo, che sta a Washington e che ha anche la cittadinanza americana. Allora, dice, è possibile, anzi ieri Brambilla nell'editoriale del resto del Carlino si chiedeva, è possibile che in America abbiano vaccinato già 70 milioni di persone e che l'Europa e l'Italia in particolare invece siano così indietro? E Cesare De Carlo questa mattina dice, è certo che è possibile, anzi possibilissimo e cercherò di spiegarlo. Primo, perché fra quei 70 milioni ci siamo anche io e mia moglie, le mie figlie, addirittura i miei generi. Quindi, secondo, perché già in alcuni Stati sono state abolite le mascherine. Terzo, perché a maggio con l'immunità di gregge, cioè con 200-250 milioni di vaccinati su 340, saremo praticamente fuori dal tunnel. E quindi cosa significa? Crescita su, disoccupazione giù. Poi De Carlo dice dove abita, abita nel distretto di Columbia, Washington, cittadinanza, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto dice, quando venne attaccata per l'Harbor, c'era la grande depressione. In sei mesi produsse l'America, migliaia di aeree, i navi, allestì due eserciti, vinse in Europa e in Asia, lanciò il piano Marshall per l'Europa, insomma, fece quello che sappiamo tutti dai libri di storia. Con la pandemia esportata dalla Cina, invece, veniamo ai giorni d'oggi, la Cina comunista è accaduta più o meno la stessa cosa. Ad aprile, quando il vituperato Trump, di cui dissero peste e corna, investì una dozzina di miliardi di dollari nella ricerca, non immaginavo, dice ancora De Carlo, che il 22 gennaio sarei stato vaccinato, quindi in pochissimo tempo, ma immaginavo, anzi, ero certo che fra i giganti della farmaceutica americana si sarebbe accesa una provvidenziale competizione e questa è la forza del mercato. Ebbene, sette mesi dopo, Pfizer e Moderna cominciavano a spedire le due dosi dei vaccini. Johnson & Johnson avrebbe seguito a ruota con una dose. Secondo miracolo, la distribuzione, ecco qua, segniamolo con il rosso, perché è importante, noi è qui che stiamo fallendo, a parte che l'Europa ha fallito nei contratti con le case farmaceutiche, lasciamo stare perché su questo anche qui ci sarà da scrivere libri e quant'altro. Ma sulla distribuzione, sentite qual è il secondo miracolo americano, se ne è occupato il Pentagono, capite? Poi la passa è passata a 50 Stati più il distretto. Gli Stati Uniti sono una federazione, ogni Stato ha curato le forniture, ospedali, farmacie, centri sociali, i quali a loro volta hanno creato siti online. Prenotazioni rapidissime, io e mia moglie ci siamo vaccinati alla Johnson Hopkins di Washington, nessun costo, nessuna coda. Poi invece dice mia figlia si è vaccinata in Pensilvania, in una farmacia, vedete? Un'altra mia figlia in Maryland, in community center. Insomma, anche l'Italia oggi avrebbe i suoi vaccini se avesse devoluto alla ricerca parte del reddito di cittadinanza, è finito ai mafiosi, i fondi per i banchi con le ruote, i monopattini, bonus a pioggia, le siringhe pagate cinque volte, questo aggiungo io, non l'ha detto lui perché evidentemente gli è sfuggito, le siringhe pagate cinque volte, insomma, sappiamo, siamo italiani, sappiamo come vanno le cose. Andiamo avanti. Vaccini, ecco qua l'altra pagina del cattivo umore, pagina 3, vaccini al 2% dei marchigiani, capite di cosa stiamo parlando? Cioè, vaccini al 2% dei marchigiani, numeri flop, ma almeno l'accordo con i medici di base è fatto, Deo Grazias. La nostra regione è al sest'ultimo, anzi posto, la campagna varra alentatore, intesa fatta per le dosi da somministrare, ai non autosufficienti, meno male, suoneremo le campane. Persone vaccinate, guardate questa è la lista, guardate dove siamo noi, insomma, non siamo tanto messi bene. Siamo qua giù, vedete, qua, siamo qua, 2,08% soltanto dei vaccinati. Le dosi non basteranno, dice ancora Saltamartini per 90.000 persone che hanno più di 80 anni qui nella regione, ammette i ritardi e i deficit dei vaccini. L'AstraZeneca dice, ne abbiamo 38.000, ma vengono dedicate ad altre categorie. E poi dice anche, rivendicando, partendo sempre da questo post che potrete trovare sulla pagina di Saltamartini su Facebook, dice, fu io a dire che se l'Italia avesse intrapreso questa strada, quella di produrre in Italia, qui da noi, i vaccini, non saremmo probabilmente a questo punto. Poi ancora, ciclo terminato solo dal 2% della popolazione, il consigliere regionale Dem Mastro Vincenzo dice, le marche hanno 40.000 dosi inutilizzate, cosa stanno aspettando? E l'onorevole Morani rincara, la nostra regione non ha ancora sottoscritto l'accordo con i medici generali. Gli studenti delle medie non vogliono tornare in didattica distanza, i timori della preside della Pirandello di Pesero, a Cantiano Plessi chiusi invece già da oggi. E poi, restando sempre da quelle parti, a Frontone invece, a Frontone c'è una notizia che riguarda la morte di una donna, una donna molto conosciuta, Marta Vitalucci. Il titolo è Donna si negativizza dopo il contagio con il Covid, ma muore a 54 anni nel reparto di rianimazione. Si era negativizzata dopo essersi ammalata al Covid-19, è morta mercoledì a soli 54 anni nel reparto di rianimazione del San Salvatore di Pesero, lascia suo marito, un figlio adolescente. La nostra comunità, dichiare il sindaco di Frontone Daniele Tagnani, è fortemente scossa e colpita. Marta era una persona importante per la nostra comunità, particolarmente attiva nella società e nelle associazioni. Vediamo anche se riesco a darvi alcune informazioni sul funerale. Sì, il funerale si svolgerà oggi a Frontone alle ore 15 nella chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria. Cambiamo argomento, cambiamo pagina, andiamo a parlare di cronaca. Siamo sulla pagina 9 del Carlino di Pesero. Gli rubano i soldi mentre fanno sesso, ci fanno sesso. Due donne finiscono a processo per furto ai danni di un focoso 74enne pesarese, al quale poi hanno estorto altro denaro in cambio di silenzio. Quindi è una cosa che è andata avanti per diverso tempo. Siamo nell'estate del 2018, il primo agosto del 2018, quando il 74enne della periferia di Pesero era impegnato appunto in questa prestazione di particolare trasporto con una donna di 38 anni. Poi in questo menage c'era anche un'altra donna che però con una certa delicatezza, tanto da non farsi accorgere, gli ha sfilato dal collo una catena, una catena d'oro raffigurante, un crucifisso, poi i soldi e questo continuava a vedersi con queste donne e queste donne ovviamente se ne approfittavano. Poi è entrato in ballo anche un uomo che in qualche modo fuori dal discorso sessuale, ma comunque che è intervenuto un loro amico che aveva tentato di evitare la denuncia e quindi tutto il racconto lo troverete sul giornale di questa mattina. Intanto, e su questo dovremmo invece un attimo soffermarci perché quando parliamo di truffe non è mai abbastanza il tempo che si dedica, soprattutto perché i truffati poi sono sempre loro, gli anziani, che in buona fede fanno entrare le persone in casa. Ora, che cosa è successo? Una persona, una donna, a un certo punto si è abbussato a casa di questa coppia, marito e moglie ultra ottantenni di Pesaro, dicendo di avere l'incarico di verificare a domicilio gli effetti del vaccino, pensate, sulle persone over 80 e per questo doveva accedere in casa e sincerarsi sulle condizioni di salute sue e di sua moglie. Questa qui si è presentata col saturimetro, si è presentata col termometro scanner, quindi era perfettamente credibile. Una volta dentro, chiaramente ha misurato la temperatura a questi due poveri anziani, gli ha misurato l'ossigeno nel sangue con il saturimetro e fin qui tutto a posto. Che cosa è successo? Alla fine di questa, tra virgolette, visita a domicilio, la donna ha chiesto, eccola lì, lì deve scattare subito il campanello d'allarme, ha chiesto di potersi lavare le mani ora. O ce l'accompagnate voi con la mano e state lì davanti mentre si lava le mani sul lavandino, oppure vuol dire che è una truffa. E così è successo? La donna, che nel frattempo aveva stretto amicizia, aveva rassarenato gli anziani, aveva detto parole, insomma, di tutto bene, tutto bene, state tranquilli, state in salute. Ecco, è andata non solo a lavarsi le mani, ma anche in camera, ha aperto i cassetti e gli ha portato via i soldi dal portafogli dell'uomo che aveva nel cassetto. Ecco, quindi questo è un po' quello che succede. Allora, se, per chiudere, se vi si presenta alla porta, ci rivolgiamo agli anziani, se vi si presenta alla porta qualcuno che dice di voler controllare la temperatura, gli effetti del vaccino, voi non fate mai entrare nessuno, teneteli fuori dalla porta, a meno che non sia vostro figlio o il vostro vicino di casa che conoscete perfettamente. Il resto tenete tutti fuori dalla porta, anche se vi dicono che devono controllare qualunque cosa. Fuori dalla porta, nessuno può entrare dentro casa vostra. Contributi per la locazione, aiutate 300 famiglie fanesi, beneficiari divisi in due fasce, fondi fino a 793 euro a nucleo, i fruitori aumentati del 75%. Poi c'è la cronaca, anziano colto da malore, la vicina allerta ai soccorsi, entrano i vigili del fuoco, il 118 lo porta in ospedale. È successo ieri nell'appartamento di questa persona che ha dato l'allarme e che ha avvertito anche i vigili. Ieri mattina intorno alle 10 in via Liguria. Sotto invece una persona vera e un grande sportivo a San Cristoforo per l'addio a Lorenzo Molo, tanti appassionati della montagna. Vedete la salma portata in chiesa. Una celebrazione semplice, essenziale come i gesti di chi sale in montagna. Dato l'ultimo saluto al 68enne fanese Lorenzo Molo, lo scalatore che martedì scorso ha perso la vita per una tragica caduta da una parete di roccia sul massiccio del Monte Nerone. Vergognosa operazione speculativa, invece Sant'Orso non è un rione degradato. Anche il vicepresidente della regione Marchia è in campo contro il video del trapper Young Speed. Questa è la fotografia, un fermo immagine del video dove il quartiere è ben riconoscibile e poi Carloni appunto a destra dove è nato. New Jersey invece a Pesaro a protezione delle silicate. Anche il sacerdote perde la pazienza. Don Daniele Federici mette in guardia e dice la percezione generale è di un assetto pericoloso e quale barriere stravolgono il paesaggio. Tutto quel cemento mi ricorda le periferie romane. E invece a Pesaro la Capitaneria di Porto ammette noi contrari alle torri. Il piano regolatore lì prevede solo attività marittime. È stata presentata una richiesta di variante per portare il numero degli appartamenti 86 e per questo abbiamo fatto verifiche. La delibera 139 del 2003 dice che al posto del Consorzio Agrario ci poteva andare una struttura che però asserviva, cioè asservita al porto. A Cartoceto invece sospette esche per cani. Scattate le analisi. A Cartoceto l'allarme per il ritrovamento nelle aiuole del centro di Bocconi avvelenati. Le zone perlustrate anche dai carabinieri forestali. Il sindaco Enrico Rossi dice siamo di fronte ad un gesto vile. Il mio auspicio è che il responsabile venga individuato al più presto. Andiamo adesso invece sulla pagina di Vallefoglia. Certificati anagrafici e stato civile. Presto si potranno stampare a casa. Ucchielli. Il sindaco annuncia un nuovo sistema informatico nel segno della digitalizzazione. Sotto invece biometano e compost di qualità tra salute e ambiente. L'evento è organizzato da Green Factory tra web e presenza. Mentre nella pagina di Urbino da Mercatello sul Metauro il tecnico indagato dalla Procura non è un dipendente del Comune dice il sindaco Fernanda Sacchi che interviene sull'indagine della Guardia di Finanza. Dice è un collaboratore esterno in convenzione. Quel collaboratore che cercava di portarsi a casa un computer mettendolo poi sul conto del Comune. L'Ateneo invece a Urbino inizia alle vaccinazioni interne. Riccardo sulle sette e mezza non mi dici niente? Non ci siamo accorti? Vuol dire che era interessante. Allora ci vediamo, scusate c'è la Santa Messa da Loreto, ci vediamo stasera alle 20 e 30. Siamo in ritardo, arrivederci.